Sarà in servizio già da mercoledì 16 novembre il nuovo direttore di neurochirurgia dell'ospedale di Santeria di Caltanissetta. Si tratta del dottor Luigi Basile, dalla chirurgia cranico-encefalica alla chirurgia arachide cervicale midollare fino alla chirurgia arachide dorsolombosacrale, della spasticità e del dolore cronico. La carriera del dottor Basile è arricchita da competenze trasversali in più branche neurologiche. 58 anni, laureato in medicina e chirurgia all'Università degli Studi di Catania. Nell'88, dopo la specializzazione in neurochirurgia sempre nell'Ateneo e Etneo, è stato neurochirurgo avarese dove è rimasto fino al 2010. Poi, tornato in Sicilia, ha intrapreso il nuovo percorso all'interno della neurochirurgia dell'AU Policlinico Paolo Giaccone di Palermo. Docente a contratto della scuola di specializzazione in neurochirurgia del Master di secondo livello in terapia del dolore dell'Università degli Studi di Palermo, l'Ateneo in cui insegna anche come docente. Il direttore generale Alessandro Caltagirone dice «Sono certo che il dottor Basile saprà mettere a frutto la sua competenza e esperienza per sviluppare e crescere le potenzialità della nostra neurochirurgia». La nomina, peraltro, arriva in un momento favorevole che coincide con il ripristino del monello organizzativo alla fase pre-Covid. Da oggi il reparto di neurochirurgia avrà la sua piena identità e non sarà più accorpato alla chirurgia vascolare, valorizzando il nuovo ruolo di centro hub di riferimento per i traumi delle province di Caltanissette e Negrigento. Una riorganizzazione, dice ancora il direttore generale, logistica ancora più favorevole, anche tenuto conto dell'imminente inserimento della neurochirurgia all'interno della rete dello stroke.